Salve a tutti fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Andiamo a vedere un altro messaggio presunto della giornata di oggi e andremo a vedere la Madonna protettrice degli afflitti che si trova ovviamente in Brasile. Qui sono due messaggini ridotti, in modo particolare il secondo che leggiamo perché uno è del 9 febbraio e l'altro del 12 febbraio 2020 e vediamo cosa dice qui la Vergine Maria qui in Brasile. Cari figli, tutto sta per finire, solo la grazia di Dio in voi sarà eterna, quindi già sappiamo che stiamo in tempi difficili, in tempi ultimi cosiddetti e in effetti siamo alla fine dei tempi, cari fratelli e sorelle, tant'è vero che lo dice la Vergine Maria in effetti pochi dei miei figli parlano degli ultimi tempi o della fine dei tempi e stiamo alla fine di un percorso, cari fratelli e sorelle, non è la fine del mondo e siamo alla fine di un'epoca, ecco questa è la verità e questo la Vergine Maria ci sta dicendo che stiamo alla fine di un'epoca, stiamo alla fine dei tempi, si parlano così di ultimi tempi. Si avvicina dice il grande giorno o il giorno della grande tribolazione, quando il sole si oscurerà e la luna non darà la sua luce, quindi si avvicina a questo grande giorno della tribolazione, tutto secondo, come si vuol dire, tutto secondo quelle le profezie dicevano, quindi stiamo vivendo questi tempi così forti e così difficili, cari fratelli e sorelle, ma sappiamo che il Signore ha tutto sotto controllo, l'importante da parte nostra è che perseveriamo nella fede e non ci facciamo mettere paura, ecco non ci dobbiamo spaventare, ma lottare sempre in questa grande battaglia spirituale e ci dice la Vergine Maria, vi invito ad un cambiamento di vita urgente, cioè ci dobbiamo convertire prima che sia troppo tardi, cari fratelli e sorelle, ma non solo in visione diciamo di questi ultimi tempi, ma anche se questa notte il Signore ci chiama e ci riporta alla casa del Padre, che gli andiamo a dire, cari fratelli e sorelle? Per ogni giorno che passa il mio cuore materno è pieno di spine quando vedo tanta sofferenza sulla terra, quindi la Vergine Maria soffre per quello che sta avvenendo in questi ultimi tempi, come sappiamo, quindi la sofferenza che c'è sulla terra si rispecchia nella sofferenza del cuore della Vergine Maria. Rivolcedetevi a Dio, egli si aspetta ancora molto da voi, quindi Dio che cosa ama? La conversione, quindi che il peccatore viva e non muoia nel peccato e quindi vada a finire all'inferno, ma che viva. Ho fatto così tanto per i miei figli, ma molti sono ancora lontani dalla grazia di Dio, dice ho fatto così tanto per i figli, ovviamente messaggi presunte, apparazioni presunte, va bene, però guardate i messaggi che dicono, eppure, eppure la gente non gli da retta. Dove vogliono andare i miei figli? Vivete una lotta costante tra il bene e il male. La strategia principale è disprezzare il peccato e vivere nella grazia di Dio. Questa è la strategia principale, ma chi lo fa? Infatti dice dove vogliono andare i miei figli? Pregate per vincere il peccato e scacciare il male dalla vostra vita. Questo era il messaggio del 9 febbraio, quindi vedete ci dice che stiamo in tempi veramente, veramente difficili. Come poi una frase che c'è del 12 febbraio del 2020 dice questo, molto presto ci sarà un grande processo spirituale per la cura delle vostre malattie. E questo grande processo spirituale per la cura delle nostre malattie, cari fratelli e sorelle, questo grande processo spirituale non è altro che l'avvertimento, perché vedete che dice molto presto ci sarà un grande processo spirituale per la cura delle vostre malattie. Cioè l'avvertimento, l'abbiamo letto anche negli scorsi giorni, a San Bonico, ad altre parti, che l'avvertimento è vicino. Certo c'è gente che non ci crede, ovviamente noi ci mettiamo sempre come apparizioni presunte, cari fratelli e sorelle, però viene sempre ricordato questo grande evento, o l'avviso, o il grande evento, o l'avvertimento. Preghiamo fratelli e sorelle, andiamo alla Santa Messa, confessiamoci, stiamo con Cristo, non fatevi svegliare da chi vi dice che la Messa non è valida, tutte queste cavolate fratelli e sorelle, perché la verità è che il Signore ci aspetta proprio nel tabernacolo prima che sia troppo tardi. Convertiamoci, fratelli e sorelle, Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo, Ave Maria.